buongiorno a tutti e buongiorno a tutte benvenuti e benvenuta ad un nuovo appuntamento di lattes editori con i nostri webinar dedicati alla all'educazione musicale intanto che vi state tutti collegando e quindi lasciamo qualche istante che tutti abbiano la possibilità di riconnettersi prima di entrare nel vivo vi lascio un po di informazioni anche se immagino che ci seguiate da tempo perché questo è un percorso che abbiamo iniziato quest'autunno con una serie di incontri di formazioni e di interviste che si sono susseguiti e ci hanno dato la possibilità di esplorare mille sfaccettature dell'educazione musicale a scuola probabilmente già lo saprete l'incontro di oggi è registrato come avrete visto anche dalla notifica quando vi siete collegati e troverete la registrazione di questo e di tutti gli altri incontri che vi accennavo prima sul nostro sito quindi insomma se avete poi piacere di rivedere gli appuntamenti passati nel caso non li aveste già seguiti o di condividerli con qualcuno dei vostri colleghi lì trovate tutto trovate i video trovate le slide tutti i materiali che abbiamo messo a vostra disposizione e è previsto anche un attestato di partecipazione lo riceverete via mail all'indirizzo con il quale vi siete iscritti e vi invito anche durante il webinar ad utilizzare la chat che è il mezzo che avete a disposizione per interagire con noi quindi se avete delle domande delle curiosità o anche semplicemente se vi fa piacere condividere eh dei commenti alla vostra esperienza in classe insomma ci fa piacere trasformare il più possibile quest'intervista in un dialogo aperto e insomma fate queste prime presentazioni più di come dire organizzative eh lascio la parola al dottor Simone Lattes amministratore delegato della nostra casa editrice e vi auguro un buon ascolto grazie Letizia buongiorno a tutte buongiorno a tutti grazie per esservi collegati oggi pomeriggio per questo ennesimo incontro qua devo dire gli argomenti e le registrazioni si accumulano perché ormai sono direi due anni che organizziamo eh mensilmente dei dei dialoghi tra eh Nicola Campogrande e diversi esponenti del mondo della musica della cultura l'approfondimento delle arti e vi dicendo eh e tutto questo perché perché eh rientra nel grande progetto che eh ormai stiamo portando avanti con il libro di testo prima la musica eh educazione musicale per la scuola secondaria di primo grado scritto da Nicola Campogrande eh un testo che per fortuna sta godendo di ottimi riscontri eh da parte degli insegnanti e degli studenti e ha anche ottenuto un riconoscimento internazionale come miglior libro di testo di musica eh d'Europa lo scorso ottobre alla fiera del libro di Francoforte e eh ma ecco un libro non è solo la sua parte cartacea e anche tutto tutto il corredo di cui si dota e per gli insegnanti c'è quindi questo appuntamento regolare eh con Nicola Campogrande e gli ospiti. Vi segnalo prima di venire all'incontro di oggi eh che il prossimo ventiquattro aprile ci sarà un ulteriore incontro, vi invito a partecipare, ospite sarà eh Nicolo Fabi eh e il tema sarà la voce del cantautore tra mestiere e responsabilità. Sarà un bel dialogo e ovviamente anche il cantautorato è uno dei temi che vengono affrontati eh nel nel corso prima la musica eh adesso avremo l'occasione di approfondirlo con eh un protagonista e con un cantante italiano che tutti conosciamo. Eh ma veniamo all'incontro di oggi eh l'ospite eh che ha accettato il nostro invito e la ringraziamo moltissimo per il tempo che che ci dedica anche perché oggi è il suo compleanno quindi è tempo ancora più prezioso. L'ospite dicevo è Gloria Campaner. Per chi non la conoscesse Gloria Campaner potete immaginarla come una di quelle grandi musiciste in carriera eh di cui si può si può onorare il nostro il nostro paese perché è una pianista che ha fatto tutti i suoi concorsi, ha vinto i suoi gran premi eh gira per le sali da concerto di tutto il mondo e e suona con orchestre in tutto il mondo eh ha registrato in registra con Emi, con Warner quindi insomma possiamo immaginarla così ma devo dire dal mio punto di vista e poi lei magari potrà correggermi ha una cifra particolare nel senso che lei si è sempre fatta contaminare nei suoi interessi anche da altri ambiti e quindi troviamo ad esempio che è una figura che eh lavora molto si contamina molto con il jazz, ha fatto dei dei lavori eh in cui è lavorato appunto con il contaminato con la danza contemporanea eh con l'elettronica, con il teatro, insomma è una figura eclettica e già solo per questo è interessante una chiacchierata tra lei e Nicola Campogrande ma non è questo in verità l'argomento dell'incontro di oggi perché perché in tanti anni di attività e di professione eh Gloria Campaner eh si è eh specializzata eh negli aspetti psicofisici dell'attività eh musicale eh e questo è un aspetto assolutamente da non trascurare non è da trascurare per chi è musicista in carriera perché è concertista ma a maggior ragione non è da trascurare per chi lavora tutti i giorni con dei giovani in classe che si devono comunque confrontare con eh eh l'ansia della performance per dirne una no? Il dover cantare doversi esporre mettere a nudo con la propria voce magari di fronte ai coetanei e sappiamo quanto è difficile far cantare i giovani si vergognano con i loro compagni e le compagne e via dicendo allora questo ci è sembrato un argomento importante eh eh su cui formarci un po' e raccogliere qualche suggerimento perché può tornarci molto utile nella nostra attività quotidiana con con la classe quindi ringrazio ancora Gloria Campaner per il tempo che ci dedica oggi e ovviamente ringrazio Nicola Campogrande l'autore di Prima la musica compositore divulgatore e chi più ne ha più ne metta ormai lo conosciamo tutti benissimo quindi grazie ancora a tutti buon ascolto e passo la parola ai nostri due ospiti grazie grazie Simone sempre un piacere vedere confermato l'impegno della casa editrice nei confronti della musica perché cara Gloria certo che stiamo raccontando un progetto e un'impresa ma stiamo anche raccontando quella che forse poteva essere un'utopia adesso magari diventa un sogno e poi diventa un progetto sociale cioè quello di approfittare della musica per creare delle cittadine dei cittadini più sereni più consapevoli più informati fondamentalmente migliori come già Platone ci insegnava però per farlo lo diceva bene Simone Lattes bisogna che stiamo bene bisogna che stiamo bene entrando in classe bisogna che stiano bene le studentesse e gli studenti ai quali ci rivolgiamo ed è per questo che abbiamo pensato di coinvolgerti perché effettivamente è prezioso per tutti il gesto che tu hai deciso di compiere quello di suonare un po' di meno e aiutare non solo chi suona ma chi si deve confrontare con altri esseri umani innanzitutto come fa qualunque insegnante entrando in classe quindi esistono almeno due livelli di benessere sui quali vorrei farmi aiutare da te oggi a ragionare il benessere del docente e il benessere poi degli studenti allora forse possiamo addirittura intanto lanciare una specie di domanda alla nostra chat alla quale tutti possono ovviamente rispondere ma state bene quando entrate in classe oppure se avete una sensazione di disagio o di difficoltà ce la volete raccontare ci aiutate a capire quali sono i nodi che si potrebbero sciogliere perché troppe volte lo dico con un po' di tristezza quasi non solo di amarezza di fronte a proposte operative reali possiamo fare questo possiamo fare quell'altro ho visto che ci si scontrava con delle difficoltà che nascono però proprio da una difficoltà personale psicofisiologica appunto nel declinare un ruolo che un ruolo difficile con ruolo di responsabilità ed educazione non solo musicale non solo civica ma fondamentalmente umana per cui il raccogliere fare una piccola cernita diciamo delle difficoltà non dico dei disagi ma almeno delle difficoltà mi sembrerebbe prezioso tu gloria nella tua esperienza nei tuoi incontri nel tuo viaggiare ormai fittissimo tra l'Europa e gli altri continenti ad aiutare i musicisti di tutte le età con che difficoltà ti sei confrontato dovessi dire qual è il primo problema il problema maggiore che ha chi si trova a dover entrare in un luogo nel quale mette se stesso a disposizione degli altri in varie forme guarda ma innanzitutto grazie di cuore per questo invito un saluto a tutti a tutti e a tutte le presenti guarda ti rispondo subito a questa domanda ma mentre parlavi mi è venuta in mente una riflessione perché grazie che hai lanciato a tutti questa domanda come state state bene e anche il bel titolo che abbiamo dato a questo incontro stare bene con la musica non è così scontato non è per niente scontato c'è uno dei tanti motivi per cui ho diciamo fondato questo laboratorio ho dedicato più tempo all'ascolto alla cura di qualcosa che non si vede ma è così presente nel nostro corpo nella nostra esistenza nel nostro organismo non lascia tanta traccia ma poi lascia una traccia incredibile che sono che il mondo delle nostre emozioni ecco viviamo tutti sia nella musica che non nella musica in un mondo che ci chiede continuamente di essere performanti di essere efficienti di essere più o meno perfetti di andare oltre i nostri limiti anche questo poi se abbiamo un momento mi piacerebbe parlarne perché mi sembra un'enorme fesseria questa idea di dover sempre no limits oppure andare oltre i limiti non fa vedere l'infinito non fa vedere veramente le nostre potenzialità ma è solo una corsa forse nata ma faccio un passo indietro ecco la domanda come stai ma la domanda che presuppone un ascolto non come stai allora come va e subito allora ti sei collegato sei pronto hai fatto che uno lo dice perché così nel linguaggio della gentilezza nel linguaggio del buon senso ma veramente come stai come ti senti stai bene state bene non viene chiesta e soprattutto non c'è interesse a sapere la risposta dell'altro cioè non c'è una predisposizione all'ascolto e senza dover adesso fare diciamo delle eh sottocategorie musicisti non musicisti artisti sportivi non importa adesso partiamo partiamo a parliamo a tutti gli esseri umani però insomma sicuramente qua dentro siamo in una cerchia dell'arte ecco perché questa domanda non viene fatta no a chi studia arte a chi studia musica come non viene fatta magari a nessun altro perché proprio lì c'è qualcosa c'è un tabù c'è una fragilità c'è qualcosa di vulnerabile che non che non si vuole svelare c'è qualcosa io stessa non mi ricordo di aver mai avuto il coraggio di dire a un mio insegnante di musica poi soprattutto più bravo era no più importante era il maestro più chilometri dovevo fare per raggiungerlo più soldi dovevo spendere in viaggio aeree meno avrei avuto il coraggio di dire che ero stata male che non avevo dormito che avevo forse vomitato che non riuscivo a finire cioè usi quell'ora per sistemare la parte tecnica no della tua della tua crescita del tuo sviluppo artistico ecco completamente dimenticandoci che c'è tutta un'altra parte secondo me fondamentale se non di uguale importanza anche per poter fare al meglio una performance che è tutta quella che riguarda l'emotività la tua capacità di sentirti bene e quindi anche di sentirti bene nel gesto artistico nel messaggio che vuoi veicolare dentro questo gesto quindi ecco sono contenta che non so cosa ne verrà fuori oggi ma che in questa stanza virtuale che abbiamo creato grazie che avete creato grazie a questo incontro ecco che ci si possa concentrare a dare delle risposte a questa domanda sacrosanta e tu che risposte daresti o meglio che suggerimenti daresti in base alle risposte immaginiamo che qualcuno ti dica sto proprio bene ho proprio voglia di cominciare la mia lezione con i miei studenti e le mie studentesse ha già risolto oppure questo sto proprio bene ha bisogno di essere declinato in qualche modo ci vuole un progetto ci vuole tutte le volte un'idea non lo so ma allora dire sto proprio bene che è quello che per esempio direi anch'io oggi io oggi persino ho pubblicato una foto in cui proprio chiedevo a tutti se si vede che ero felice che sono felice perché sono veramente felice come diceva bone cut no quando siete felici fateci caso è importante farci caso io sono un ottimista sono una che vede sempre tutto pieno di luce o che immagina addirittura di diventare luce purché pur di non avere ombre e pensare che non esista l'ombra anche se è importantissimo anche l'ombra ma io credo a qualcuno che mi dice che sta bene perché anch'io lo dico ci voglio credere ed è importante però lì c'è sempre qualcosa che si può indagare allora a quel punto aprire la finestra dell'ascolto cioè proprio allenarsi per capire quanto è importante la cura di una condivisione di un ascolto profondo di una comprensione dell'empatia di tutto quello che serve per star vicino a qualcuno che sta facendo un percorso così difficile no che può essere nuotare dentro il mondo dell'arte della musica ecco tu devi essere predisposto soprattutto se nella vita scegli di essere in un certo senso un educatore e quindi una persona che dispendia bellezza e un certo tipo di sapere e quindi io io provo ad andare a fondo e me lo sono inventato in un modo un po' un po' diverso un po' così a modo mio nel senso non è non è un modo teorico ma è un modo un modo abbastanza pratico abbastanza anche divertente anche abbastanza creativo e con creativo io a volte dico sono corsi di creatività ma non perché facciamo un bricolaggio creiamo qualcosa o chissà o chissà cosa ci inventiamo ma creiamo attività cioè stiamo continuamente in un'attività di pensiero di idee e di condivisione perché non dimentichiamoci mai che la condivisione è non sentirsi soli e quindi è un primo passo verso qualsiasi tipo di cura tu immagini io incontro tutti questi ragazzi che possono essere alle media al liceo al conservatorio principalmente musicisti ma non solo è a un certo punto si arriva proprio a parlare delle esperienze personali si arriva a toccare una serie di sintomi no di sorta di somatizzazioni che arrivano dall'emozione forte della paura e si trasformano in tante somatizzazioni diverse del corpo della mente del comportamento ecco che appena qualcuno apre bocca non è più solo e appena qualcun altro dice ma sai succede anche a me così ma sai che a me invece ma anche a me comincia ad esserci un coro di voci che dice più o meno la stessa cosa perché ragazzi siete in 74 cioè se dovessimo adesso riempire questi vasi di questi fantomatici sintomi che arrivano quando ci si avvicina a un momento di stress psicofisico ecco che più o meno sono quelli sono quelli per tutti poi a uno può prendere più lo stomaco a uno può prendere ma è veramente molto più simile di quello che si pensa noi musicisti teniamo io lo so ma succederà solo a me ma lui guarda sta bene ma guarda com'è tranquillo sono io io non mi faccio vedere non è così cioè questa è un'energia un'emozione primaria così forte che arriva travolge tutto il corpo e in un certo senso gli va puntato un faro e prima di tutto va detto ok ci sei ti vedo sei arrivata come come sempre a bussare alla mia porta perché così funziona vediamo cosa posso fare per sentirmi bene con te ho paura non so se per esempio un insegnante che propone una qualunque attività a una classe la può proporre non aspettandosi che magicamente la classe reagisca e raggiunga un determinato livello che magari è superiore le possibilità delle classi magari attese di normale ma si può porre in una maniera molto più dialogante dicendo è difficile lo so è stato difficile anche per me lo è ancora adesso figuratevi oggi che ho dormito male eccetera eccetera è difficile per te quindi anche tu cosa ne pensi e sono tre minuti ben spesi mi pare di capire sicuramente sicuramente proprio anche prima viaggiando guardavo il mare arrivando qua stavo proprio pensando che cosa che cosa potrei dire e ho qualche idea ma stavo proprio pensando certo più dialogo magari ce n'è già molto però non credo ci debba essere paura nel raccontare anche cose che in prima persona sono successe no che così proprio tu per primo ti metti a dire guarda a me è successo così cosa ne pensi pensa quella volta perché molte volte il nostro il nostro mondo è così nascosto dentro di noi che da fuori non si vede io ho inventato questo laboratorio che si chiama c sharp così perché volevo dargli un nome che ha a che fare col mettere a fuoco per vedere qualcosa che non si vede per vedere nitidamente anche il mondo delle emozioni che in un certo senso invisibile e ne ho inventato parlando per caso con il primo violino del quartetto di cremona cristiano walco che è un amico noi abbiamo fatto tanti concerti insieme e lui un giorno mi ha detto questa cosa lui poi è un empirico non è uno così spirituale come tra l'altro forse mi difenderei definirei un pochino più io però lui mi dice questa cosa abbastanza illuminante sai gloria noi siamo nati con questi due occhi che guardano fuori cioè siamo dotati di due occhi che guardano dinnanzi a noi e cioè non abbiamo non abbiamo un modo di girare questi occhi e guardare dentro di noi poi c'è chi crede nel terzo occhio chi non ci crede però diciamo questi occhi sono orientati per guardare avanti per guardare al futuro potremmo dire ma secondo me per guardare avanti perché poi per guardare al futuro bisogna anche lì investire dell'energia e non riusciamo a ricordarci a capire che c'è uno sguardo che se se lo allenassimo a guardare più dentro di noi troveremo molte più risposte e anche molte più risorse e quindi mi sento di dire prima di tutto troviamo un modo per mettere a fuoco anche una vista che guarda dentro e quindi capisce dove ci sono i limiti dove posso andare a fondo dove posso allenare qualcosa della mia espressività della mia della mia modalità di condivisione e soprattutto sui limiti riflettiamo tutti perché allenarsi nella propria stanza ad allenare un po la pasta della pizza soprattutto se il tuo gesto è artistico sportivo insomma dove si tratta proprio di migliorare no ogni giorno avere un obiettivo di miglioramento per un certo di risultato allora lo fai però ecco questa richiesta forse nata di dover sempre superare i limiti dinnanzi agli altri mi sembra quanto mai sbagliata e anche perniciosa e pericolosa io credo sinceramente questo lo insegno a tutti i miei chiamiamoli così studenti ma preferisco chiamarli amici con cui condividiamo perché sono miei colleghi ecco di usare dell'energia buona per fare un passo anche due indietro una volta che tu hai conosciuto il tuo limite se tu fai questo preziosissimo passo indietro e usi questo cioè lo custodisci questa questa zona di comfort tu a quel punto fai vedere il tuo infinito se qualcuno ci sta ascoltando ha bisogno di una spiegazione in più ci tengo a darla cioè intendo dire pensiamo anche cose più pratiche se tu stai ascoltando qualcuno che suona o che canta o che si esibisce ecco se tu da pubblico senti che questa persona sta cantando sta suonando il più veloce possibile il più sta cantando il più acuto che può il più forte che può cioè che non ha più forza fisico espressiva tu ti accorgi che questo artista è al suo limite e quindi ti accorgi che più di così non potrebbe mai fare quindi di colpo gli individui una una parte vulnerabile una fragilità una sua fine ecco che se invece noi alleniamo con un po di umiltà anche a fare un passo indietro tu ascoltatore tu mondo tu percettore dell'arte vedi una strada una una prateria aperta vedi un infinito vedi un orizzonte che è lontano e questo è bello e quindi ci fa fare una piccola doccia di umiltà che uno dice va bene insomma io sono arrivato fin qua adesso faccio persino un passo indietro però questo al passo indietro io quello che ho da offrirti te lo te lo offro bene ti faccio sentire bene ti faccio mettere a fuoco bene tutto ti faccio vedere il mio orizzonte quello che sia secondo me questo è un consiglio importante da dare agli artisti io me lo sono auto inculcato perché adesso però non ho paura a raccontare tante cose di me quindi insomma io sono una piena di di emotività di forza prorompente sono nata oggi il 5 aprile sono ascendente leone tutti i pianeti sagittario solo fuoco solo fuoco solo fiamme per cui mi devo molto controllare anche se non credo molto nello zodiaco però quel poco se è vero e ce l'ho e quindi ecco io io credo che questo sia sia importante e possa servire anche se poi nella vita tu tutti i giorni devi entrare poi in una classe devi inventarti il tuo orizzonte lo devi raccontare magari ecco arrotondare qualche bordino stare un po più dentro lì e poi ogni giorno questa questo orizzonte lo allarghi nel tuo lavoro nella tua nel tuo allenamento nel tuo continuo ricercare non so se questo potrebbe essere un primo buon ma assolutamente sì è evidente che il presupposto dell'incontro di oggi è che chi si trova per mestiere a insegnare musica nella scuola media fa parte del gruppo dei musicisti che collettivamente lavorano a portare bellezza qualcuno lo fa come sta facendo gloria in questo momento aiutando i colleghi che suonano quando non è lei stessa a suonare oppure è lei stessa a suonare altre si trovano ad avere tutti i giorni di fronte una classe ma insomma siamo sulla stessa barca in sostanza prova a fare però gloria all'avvocato del diavolo mi immagino qualche nostro collega che tutti i giorni affronta la sua classe e si dice ma accidenti già faccio una fatica dell'anima a trovare un'autorevolezza sulla quale magari io stesso ho onestamente qualche dubbio e allora devo gridare e torno a casa che ho mal di gola e allora li devo mettere in punizione allora li devo minacciare perché se no non ottengo risultati ma se addirittura io mi mostro con i miei limiti se io addirittura scopro il mio nervo cioè se cerco questo tipo di empatia che tu stessa stai suggerendo sai è facile trovarla in sala da concerto dove qualcuno ha pagato un biglietto e magari ha anche piacere di vedere un musicista a nudo ma le mie studentesse i miei studenti mi fanno nero se io arrivo in classe meno attrezzato e corazzato di come invece mi sembra necessario fare come si può pensare di rispondere certo adesso adesso provo a mettere anche altre altre padine sul tavolo però non intendevo dire meno corazzato intendevo dire meno sfrontato no intendevo dire cioè con tutta quella preparazione però se tu intendevo dire che io faccio capire che ho un infinito cioè i ragazzi non possono a quel punto non possono percepire che tu sei allo stremo che non hai più forza che non hai più voce no magari appunto quasi non la usi la voce parli sempre piano chissà come urlerai chi l'ha sentito no chi ha potuto dire a più forte di così non lo faccio urlare ecco questi piccoli consigli e servono servono molto quando si suona ma secondo me anche quando si quando si deve appunto spiegare o tenere tenere un gruppo di ragazzi mi sono venute in mente altre cose io a volte quando immaginiamoci appunto incontro dei musicisti quindi dei colleghi con cui soprattutto ci concentriamo per allenare quella parte di emotività che ci serve no al mondo delle emozioni cioè che ci serve quando ci approcciamo a una performance quindi ci sono cose più tecniche che magari oggi tralascerei però alla fine ci sono due aspetti che vorrei condividere per vedere se ci tornano e se magari qualcuno anche ha voglia di commentarli ma ci sono due aspetti che sono il mondo della preparazione e il mondo dell'immaginazione diciamo su cui possiamo andare un po un po a fondo anche insieme oggi perché io credo che alla fine la nostra preparazione e quindi intesa come pratica quindi come diciamo ripetizione virtuosa di un gesto fino a farne diventare una consuetudine questo funziona soprattutto per i musicisti però la preparazione in genere è qualcosa di così prezioso e di cui pian piano ci si può abituare come diceva aristotele che che l'eccellenza è un'abitudine ed è qualcosa veramente che ci può far superare l'ostacolo della paura cioè alla fine della fiera noi sulla nostra preparazione possiamo contare sopra ogni cosa e questo vale sia per gli studenti e sia per per gli insegnanti che devono ogni giorno prepararsi ecco lo so è un pochino diciamo dispendioso costa fatica non sempre si riesce però prepararsi quel 130 per cento per poter dare il 70 per cento come diceva Marta Argerich è qualcosa di sacro santo che uno alla dice sì è banale però è veramente vero e quando io faccio questi questi corsi ci concentriamo molto sul punto della preparazione ma proprio andiamo a fondo cosa vuol dire come ci si prepara in quante in quanti gradi cioè mi stai dicendo solo che devo imparare bene il pezzo o devo andare molto da prima cosa è la preparazione la preparazione proprio è tutto è come ti poni come hai deciso che camminerai come hai deciso che volgerai lo sguardo quante volte guarderai a terra invece che davanti a te quante volte pensi cioè essere proprio preparato un po in tutto e quindi in un certo senso non farti raccogliere da tutta una serie di dettagli che comunque arrivano ogni giorno perché arriveranno sempre ci sarà sempre quello che poi negli ultimi banchi non ti ascolta poi c'è sempre qualcosa che succede magari fuori ci sono un sacco di rumori stai facendo fare una cosa e si sente una pernacchia cioè chissà cosa può succedere e veramente nella sala di concerto è identico cioè tu arrivi pensavi anzi addirittura dalla prova a quando poi fai il concerto cambia tutto e come la sala è sempre quella ero vestito così c'era l'aria così c'era la luce eppure cambia tutto lo stesso c'è tutto questo mistero che cambia ma se tu ti prepari veramente tanto ecco che the work takes over come mi ha detto una volta John Malkovich è stata un'esperienza incredibile una volta io ho pranzato con John Malkovich e lui mi ha insegnato questo perché io gli ho chiesto come fai a prepararti questi monologhi noi lo pensiamo un grande attore di cinema ma John Malkovich è un incredibile attore di teatro che fa monologhi per un'ora un'ora e mezza da solo si è appunto monologo scusate e come si fa la preparazione lui ha detto after ten minutes the work takes over scusate l'inglese nel senso dopo dieci minuti qualsiasi cosa stia succedendo nel tuo corpo a livello psicofisico di sintomi di comportamento tutto quello che abbiamo appena toccato prima accennato e cambia perché la tua preparazione prende sopravvento e si va oltre lo stacco della paura quindi ecco fare mettere in luce questo e tenerselo come valvola di ok magari all'inizio tutto va storto ma dopo dieci minuti io ce la farò anche con questo gruppo di ragazzi ci può dare un po' di forza vale per tutti e l'altra piccola cosa che mi è venuta in mente è lavorare anche sull'immaginazione l'immaginazione in quanto forza più forte ancora della forza di volontà cioè non basta nella nostra vita nelle vite dire voglio non voglio cioè è molto forte ovviamente però è in un certo senso la forza di volontà è cieca dice quello che vuoi quello che non vuoi intanto non dimentichiamoci che il no e la negazione non esiste realmente ma è soltanto una retorica del linguaggio verbale serve per rispondere ma si usa soltanto nella comunicazione ma il nostro cervello io l'ho studiato studiando un po' di neuroscienze per per migliorarmi un po' in questi anni il nostro cervello non registra la negazione non proprio non esiste per cui se io adesso a tutti dico pensate a tante scimmie bianche che passano nello schermo voi le vedete cioè non pensate non pensate scusate a delle scimmie che noi le vediamo comunque perché sono un fatto di retorica e quindi spostare dalla forza di volontà all'immaginazione tutto il nostro mondo dell'esistenza tutto il nostro esistere anche quello è molto forte molto utile e quindi lavorare nell'avere una perfetta immagine cinestetica motoria visiva di noi nel momento della cosiddetta performance che può essere appunto anche ritrovarsi in classe coi ragazzi soprattutto perché voglio dire anche quello un pubblico è peraltro un pubblico molto difficile e quindi non fermarsi a dire non cosa voglio e cosa non voglio ma costruire veramente da prima tutto un involucro di una serie di gesti una serie di di azioni una serie di parole che coinvolgono anche proprio tutto il sé i passi il vestiario il profumo se l'aria sarà fredda calda se sarà salata se le finestre saranno aperte se effettivamente le lezioni sono di giorno o di sera come cioè usare usare molto l'immaginazione in modo che poi si possa essere presi sopra che l'errore o l'inaspettato ci arrivi arrivi a sopraffarci un po' meno no è come la paura della prima e poi tutte le repliche vengono meglio ecco fare in modo che questa prima in un certo senso l'abbiamo già vista l'abbiamo già afferrata l'abbiamo già immaginata e quindi siamo un pochino più a nostro agio è un pochino più familiare il tutto abbiamo lavorato per creare un environment in cui ci sentiamo bene abbiamo usato proprio la nostra immaginazione che è una forza di cui disponiamo così come anche disponiamo della consapevolezza che dovremmo allenare un po di più come esseri umani ecco guarda mi sembra importantissimo quello che tu dici quasi rivoluzionario perché guardando la chat i casi sono due o gli insegnanti i nostri colleghi collegati stanno benissimo tutti e quindi avrebbero tutti risposto sto bene grazie ma insomma non valda almeno la pena scriverlo oppure sono come siamo tutti disabituati a raccontare una situazione di difficoltà di disagio una situazione anche solo di interrogazione che uno pone a se stesso ma non lo so in realtà come sto in classe non me lo sono mai chiesto non prendo vado a lavorare è il mio lavoro c'è un indirizzo un libro di testo eccetera eccetera e questo forse spiega perché nessuno si sia aperto cosa che è comprensibile che è scusabile se dovessimo mai metterci noi dalla parte di qualcuno che deve scusare e non è certo la nostra postura in questa fase però interessante invece annotarlo dopodiché proviamo gloria a metterci nei panni del docente che si trova studentesse studenti di undici anni che per come organizzato il nostro sistema scolastico di fatto non hanno mai cantato e probabilmente non hanno mai tenuto in mano uno strumento musicale mentre hanno giocato con una palla hanno vestito soldatini e bambole hanno magari già incontrato lo smartphone in molte parti d'italia la soglia è proprio la prima media in altre no ci sono bambini che già hanno uno smartphone in mano benché sia sconsigliato in tutto il mondo da qualunque psicologo quindi ci sono una serie di abilità anche evolute se vuoi sulle quali ci si esercita quelle musicali non sono mediamente toccate perché il sistema musicale insomma prevede un'educazione alle scuole elementari che viene fatta con estrema difficoltà spesso da docenti che purtroppo non hanno avuto l'occasione di prepararsi non hanno avuto le competenze per farlo e opel egis sono diventati anche insegnanti di musica allora gli insegnanti di educazione musicale in prima media si trova per forza a chiedere la cosa che tu citavi prima cioè un triplo salto carpiato a qualcuno che ha fatto tutto tranne gesti potenzialmente anche molto semplici dal punto di vista muscolare anche emotivo per i quali però non si è preparati e quindi diventa difficilissimo fare delle cose veramente semplici e molto più semplici di altre è molto più difficile maneggiare una penna e scrivere un tema o anche solo una frase in italiano rispetto a usare la stessa forza muscolare per suonare una piccola melodia su un flauto su una gitarra su un pianoforte ma dico delle cose veramente banali però questo accade che cosa si può suggerire all'insegnante per capire lo stato d'animo psicologico emotivo degli studenti per entrare con la propria empatia in un processo che deve essere ovviamente positivo e mai punitivo ci mancherebbe sì non è non è affatto facile non è affatto facile quando l'altro giorno ti ricordi parlavamo io stessa mi sono detta ma io mi ricordo delle lezioni di musica delle medie cioè io proprio mi ricordo qualcosa mi ricordo che dovevamo suonare il flauto io mi volevo sparare eppure io facevo già concerti in tutto il mondo anche quando ero alle medie dice ma non ci potevo credere che quello fosse che fosse il momento infatti poi alla fine probabilmente non mi ricordo tanto perché non ci andavo o le saltavo ma infatti non è facile e ho pensato questo ho pensato che ovviamente che gran peccato che gran peccato ma questo non centra non riguarda nessuno di noi non riguarda chi ci sta ascoltando che gran peccato che si debba cominciare così tardi perché ti raccontavo arrivo di questa esperienza in Venezuela dove dai bambini piccolissimi si comincia già a cantare a suonare quindi ecco che quella consuetudine te la costruisci nel corpo che cresce con te e tu hai una consuetudine a usare la voce a suonare qualcosa suonare uno strumento e far parte di un coro di un'orchestra che sia ma ok arriva un po tardi come fare in un momento in cui tra l'altro insomma c'è il cambio della voce non è non deve essere c'è l'adolescenza non credo non credo di avere una risposta geniale sicuramente non ce l'ho ma mi è venuto da pensare è comunque in teoria un momento bello quello dell'educazione musicale no proprio perché non avendo a che fare con per forza con la parola con le nozioni con gli studi è comunque qualcosa che intanto si apre al mondo delle emozioni perché questo fa la musica cioè la musica è è un è un è un varco con un con il mondo delle emozioni e con il mondo più profondo anche proprio quello che va va oltre la parola e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che coinvolge il corpo perché questo spesso ce lo dimentichiamo il corpo ci serve per suonare ci serve per cantare è quello che crea tutta la vibrazione serve per percepire il ritmo cioè noi la musica la capiamo perché il nostro corpo percepisce il ritmo perché i nostri sensi se ce li abbiamo cioè è un fatto sensoriale quindi certo che c'è uno sforzo intellettuale ma dobbiamo veramente ricordarci che lo sforzo intellettuale è una parte di tutta la percezione che arriva attraverso la musica e quindi mi sembra che sarebbe ottimo vederlo come un'occasione per usare il corpo ancora di più e dargli una dignità dargli un ruolo da protagonista e quindi non certo senso ecco arriva l'ora di musica quindi non dico che ha qualcosa a che fare con l'educazione fisica però per esempio ci si alza in piedi per esempio ci si muove no per esempio per far parte di un coro ci si unisce più cioè non si è più statici in un banco come succede perché non dimentichiamoci che questi ragazzi insomma sono diciamo ostaggio della scuola e devono stare immobili per ore e ore seduti in un momento in cui tutto il loro corpo sta esplodendo sta esplodendo di ormoni di energia di di velocità di proprio performance strutturale del corpo quindi quello potrebbe essere per esempio un momento in cui ok io mi rendo conto che voi avete un corpo usiamo lo usiamo per cantare per suonare per muoversi per percepire la musica anche come ritmo e non dimenticarsi magari non so se questo ti risuona che l'educazione musicale credo ha tanto a che fare con la percezione quanto con la fruizione quindi ricordarsi che a produzione di musica ma allenamento all'ascolto vanno di pari passo e questo so che chiunque ci ascolta lo fa fare però veramente forse equilibrare le due cose cioè quanto veramente faccio ascoltare la musica però la faccio ascoltare in un modo che venga percepita col corpo chissà cosa voglio dire con questo non lo so bene neanch'io però veramente percepirla col corpo cioè provare a ballarci dentro provare a fare degli esercizi ritmici e quando poi ti metti a fare dei lavori coi ragazzi credere non so molto sui circle song stare tutti in cerchio e provare a cantare insieme ma nel senso che ognuno inventa qualcosa e quindi subito dopo qualcuno reagisce a quel qualcosa che hai fatto ecco creare una sorta di insieme non solo perché si sta suonando all'unisola una melodia ma perché come nella musica da camera si crea una 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 situazione di botta e risposta che quindi dà uno stimolo in più come se ti stessi raccontando una storia e ognuno però fa un frammento risuona qualcosa in questo non so risuona assolutamente sì devo dirti all'interno del progetto di prima la musica ho pensato ad esempio che fosse importante scrivere alcuni brani per un'orchestra di classe in cui ci siano delle linee e ci sono delle linee diverse per diversi strumenti c'è anche una linea semplificata per studenti studentesse con diverse disabilità che non riescono ad esempio a leggere su un pentagramma allora hanno un rigo singolo con i nomi delle note e una struttura qualche volta ritmica qualche volta su moto melodica insomma seguendo i nomi delle note che quello che ci sta suggerendo una una docente che dice non dimentichiamo che all'interno delle classi abbiamo alunni disabili con dsa dobbiamo fare attenzione a bass eccetera eccetera qualcun altro scrive le attività di body percussion sono molto adatte stanno si sta parlando di quello che suggerivi tu no il fare musica con il corpo per cui a me risuona in maniera molto intensa soprattutto questa sottolineatura della delle differenze come ricchezza ovviamente le differenze in un'età in cui il corpo sta esplodendo al di là delle differenze biologiche di partenza è chiaro che si accentuano siamo più variopinti diciamo in quell'età rispetto a come lo avevamo prima e anche come lo saremo dopo no è proprio un'età in cui gli scatti sono soggettivi sono individuali per cui la materia è particolarmente pulsante allora la cosa più sbagliata secondo me è cercare una uniformità di performance per riprendere la tua parola no quindi per questo un brano di classe in cui si suona tutti insieme con difficoltà diverse ma il bello è proprio questo non l'eccellenza da una parte e chi invece non ce la fa e vabbè facciamo facciamo delle altre cose perché non ce la si fa la ricchezza è proprio che nella musica così come all'opera due persone possono parlare insieme a teatro no se parli insieme non capisce più niente nell'opera si si può cantare insieme anche con versi diversi o con gli stessi versi ma con melodie diverse la musica per sua natura consente di fare insieme delle cose l'orchestra è questo ognuno fa una cosa diversa e insieme si vince già a scuola una pratica di questo tipo che però passa ovviamente attraverso una consapevolezza fisica del corpo come tu stai dicendo dei diversi corpi e quindi anche delle diverse menti al corpo sono attaccate credo che non possa che essere ogni volta una filosofia vincente dopodiché sono d'accordo con te è difficile avere una ricetta una ricetta unica proprio perché la ricetta nasce dagli ingredienti queste sono ricette chilometro zero tu entri e hai quegli ortaggi sì lo dico con tutto affetto naturalmente sono ortaggi simpatici questi però è lì certo infatti ma mi è venuta in mente ancora una cosa sul tema della dell'uguaglianza e delle differenze una cosa una cosa sottile e importante allo stesso tempo è incredibile ma la scuola media adesso come si dice scusate scuola media per capirsi ma insomma secondaria di prima domando scusa su questo mi sbaglio sempre ma chiamiamola così perché io mi capisco alla scuola media è l'ultimo appuntamento di scuola dell'obbligo no dopodiché da lì e è una comunque per quanto uno snodo difficile è anche un momento topico cioè usare la musica e usare l'ora di educazione musicale proprio come un momento che in cui ci sono sì le differenze però di uguaglianza con questo cosa voglio dire cioè non si fa greco latino cioè non si fa non si usa la grammatica non si fa un test di aritmetica non c'è quello che magari diciamo ha una provenienza diversa a livello sia culturale sociale o anche proprio diciamo di dove è nato di cittadini qualsiasi differenza ci sia un po cambia perché con la musica tu alla fine metti metti alla prova altre tue capacità no quindi diciamo canti suoni poi magari non sai bene dire alcune parole però potresti essere benissimo intonato quindi a quel punto succede una magia che allo stesso tempo ridà una sorta di dignità e equilibrio anche sociale e culturale all'interno di un piccolo gruppo come quello di una classe cioè appunto ritorno a ricordare questa esperienza che ho avuto in venezuela ma perché a me è molto ha molto colpito dove lì appunto da da 50 anni si dà un'identità una 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 dignità sociale attraverso lo studio della musica un paese pieno di problemi e pieno di di alti e bassi di tutti i tipi però lì si è scelto che attraverso lo studio della musica si arrivi ad avere un'identità sociale quindi oltre la povertà oltre il fatto che non hai una casa non hai da mangiare ma fai parte di un coro fai parte di un'orchestra ti diamo noi la maglietta perché tanto non ce l'hai è uguale per tutti quindi insomma uno stampo socialista però di questo tipo mi viene da pensare certo infatti questi ragazzi si sentono parte di qualcosa di meraviglioso pur non avendo niente e con questo voglio dire nel piccolo e quello è un grande paese è una un'educazione capillare che attraverso questa cosa il sistema va dappertutto ma pensiamo alla piccola singola classe lì ci sono tante differenze no magari c'è figlio di uno ricchissimo c'è figlio del portiere c'è il ragazzo che ha i genitori che non sono italiani cioè a quel punto però si canta e si suona insieme e magari quello che non riusciva non gli viene bene la grammatica magari è intonatissimo e riesce a fare chi lo sa cioè è tutto da scoprire e questo arriva sempre attraverso la forza della musica che è qualcosa di no che si staglia un po viene fuoriesce come qualcosa di speciale e chi chi ha il privilegio di insegnare questo e che ha la possibilità di di essere portavoce di questo tipo di magia io credo moltissimo si deve sentire felice guarda dici delle cose potentissime che stanno risuonando secondo me nelle persone che sono collegate in questo momento eh c'è però eh Sabina Righi che fa avvocato del diavolo per tutti insomma forse dice proprio perché è l'ultimo step dell'obbligo i ragazzi che non sono educati sin dall'infanzia alla musica ti dicono che la musica non gli servirà niente a me vengono da rispondere eh tante cose ma tu che cosa rispondi un insegnante che fa questa legittima obiezione io io sono un ottimista quello ho detto prima io io credo nella luce anche in un posto tutto dirò ma tanto ci sa arriverà un lumino voi non lo vedete io lo vedo anche in una stanza buia eh è legittimo è giusto ma io credo che quel che comunque quella forza ce l'ha lo stesso cioè è come il ragazzo che ti dice ma a me non mi interessa io questo tanto non lo farò perché devo fare matematica tanto io poi oppure io andrò a lavorare tutto questo non importa cioè è qualcosa uno smosi ti passa ti attraversa il corpo tu neanche te ne accorgi ti rimane una traccia che che non hai visto neanche vedrai ma sai che da qualche parte lì eh ti ti risuonerà ti tornerà utile ti ti arricchisce ti abbellisce la vita ti regala il dono dell'armonia ti ti insegna l'equilibrio ti insegna la bellezza cioè non importa se il ragazzo in quel momento in maniera legittima ci avrebbe voglia di fare altro e magari ha ragione anche dice ma non frega niente lasciamolo andare lasciamolo dire vogliamogli bene e continuiamo a credere che invece non sarà così e che da qualche parte della sua cellula e delle sue cellule invece non è vero e poi magari qualche anno dopo invece la penserà diversamente tutto cambia tutto procede tutto si trasforma per cui anche lui poi magari ringrazierà quell'unica volta in cui invece ha percepito qualcosa di buono e tornerà lì tornerà ad emozionarsi entrerà in una sala di concerto anni dopo e si ricorderà io credo in questo però è la mia umile opinione guarda sei stata convincente perché la stessa docente dice infatti la mia risposta che da grande probabilmente si ricorderà dell'inutile che ha ascoltato e imparato e a me viene in mente che l'atteggiamento dei genitori è lo stesso ora è vero che i genitori non devono compilare il registro elettronico non devono dare i voti non hanno un direttore didattico eccetera 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 un dirigente bla bla e questa qualche volta è un po' una seccatura lo sappiamo amen pare che la scuola non ne possa fare a meno nessun livello e va bene d'accordo dopodiché cosa fanno i genitori i genitori seminano i genitori regalano i genitori sono per loro natura disponibili a offrire e non devono immaginare di raccogliere i genitori sani non sono dei contadini che poi a un certo punto dicono beh adesso è la stagione in cui voglio vedere se queste mele che ho piantato sono cresciute sull'ardero quello è un atteggiamento che secondo me uno si deve dimenticare subito ma lo dico da padre e tre figli noi facciamo il nostro lavoro e regaliamo e divertiamoci regalando con i nostri limiti che vanno denunciati che vanno utilizzati come tu ci stai suggerendo oggi gloria qualche cosa succederà in particolare nell'ambito artistico in cui anche la misura del risultato estremamente complessa che cosa devo premiare devo premiare l'intonazione di qualcuno che canta devo premiare l'esecuzione tecnicamente perfetta o devo premiare lo sguardo di chi sta cantando o devo premiare un sorriso che arriverà la settimana dopo non lo so devo identificare un'emozione come la trovo questa emozione molto complicato tutto questo anche se poi da musicisti siamo abituati a essere rabdomanti della bellezza e delle emozioni per cui la cosa che dici mi sembrano veramente preziose se ci ricordiamo quello che siamo e anche perché abbiamo deciso di essere musicisti anche se lavoriamo in un sistema scolastico che spesso non è premiante anche se qualcuno sbagliando considera la musica la cenerentola delle materie è legittima quindi poi questo pensiero nello studente che dice ma che me ne frega tanto non mi serve a nulla perché un atteggiamento che ha diritto di cittadinanza solo se intorno c'è qualcuno che lo sostiene se non non gli verrebbe in mente anche se tutto questo è accaduto non è detto che debba accadere non è detto che debba accadere nella nostra classe nella nostra scuola ma nemmeno nel nostro paese è un atteggiamento che si può assolutamente invertire se lavoriamo tutti insieme con questo tipo di consapevolezza la bellezza è meravigliosamente inutile sì che bello diciamolo e ricordiamolo e proprio in questa inutilità che poi sta la chiave di ciò che ci piace io sono convinto di questo assolutamente grazie è assolutamente così sono contenta che anche poi lei ha scritto anche io mi sento ottimista insegno musica da 15 anni sono sono felice parlando così dell'ottimismo di questo entusiasmo che è un po' io di cui io sto parlando perché abita in me e quindi non posso farci niente poi oggi il mio compleanno sono proprio felice ma volevo fare un'altra piccola riflessione alla fine poi quello che conta anche nel nostro mondo proprio per noi musicisti purtroppo noi non possiamo piacere a tutti cioè soprattutto no di fronte a una cosa così complessa come la produzione dell'arte la produzione di qualcosa di artissimo è totalmente ingiudicabile anche questi propri insegnanti appunto che devono dare un voto ma cosa lo dai cioè non puoi appenderti certo se una nota è sbagliato non è intonata ma alla fine questo non può essere un giudizio e soprattutto chi ascolta musica o chi la suona chi la perceve chi la riceve chi la dona non può star lì a pensare devo piacere non devo piacere deve prima di tutto pensare che c'è un'energia che vola c'è una vibrazione che passa e che dentro questa vibrazione deve passare un messaggio un qualche messaggio del compositore dell'idea del passato del presente del tuo cuore di quello che tu senti di quello che tu sei di quello che passa attraverso il tuo corpo perché alla fine chi suona sta suonando col suo corpo sta suonando con se stesso è vero che sta dando voce al compositore al passato all'idea però alla fine della fiera tu ti emozioni magari ascolti lo stesso brano dello stesso compositore e ti emozioni in maniera diversa ma perché perché passa da come uno lo sta suonando da cosa vive da cosa fa passare e credo che questo suonare sia lo stesso che un insegnante fa alla fine suona con i suoi entra in classe in un certo senso fa una sua esibizione no fa passare il sé dentro quello che dice fa passare un suo messaggio e quindi ricordarsi che prima di tutto prima di tutto dentro ci deve essere la gioia il piacere proprio questo questo questa energia fortissima di una gioia non nel senso di solo di leggerezza oppure del motivetto allegro questo lo voglio condividere perché anni fa dovevo preparare uno speech per ted e che poi alla fine ho chiamato la gioia dell'arte che è anche un titolo che io molto spesso do ai miei ai miei laboratori perché leggevo un libro di un'allieva di menui non dimentichiamoci che di menui è stato uno dei primi che si è preso cura del benessere dei musicisti e quindi che credeva in tutto quello che non si vede ma che va allenato e per me è stato un grande una grande ispirazione è un grande maestro a un certo punto questa qui dice mi sono accorta che nella lingua cinese c'è uno stesso ideogramma per musica che per gioia la stessa parola e c'è e io infatti a questo ted lo faccio vedere molto spesso con i miei ragazzi anche lo faccio vedere un simbolo che vuol dire la stessa parola ah ma guarda tu ma se ci pensiamo è la stessa parola in tantissime lingue cioè giocare suonare sono esattamente lo stesso verbo in francese in inglese in tedesco ecco che però a volte noi questo ce lo dimentichiamo e il fatto che la musica sia gioia ripeto non ha niente a che vedere col fatto che sia divertente ascoltarla ha a che vedere col fatto che tu l'ascolti e ti scendono delle lacrime non capisci se sono lacrime di gioia o di dolore non lo sai neanche ti muove qualcosa dentro perché quella è vita pura è una forza incredibile che ti rende vivi che ti rende parti di un tutto e diciamo avere il privilegio di vivere in questo e poi usarlo come si vuole suonando scrivendo musica facendolo ascoltare agli altri andando dando una playlist guarda senti a me piace ascoltare anche tu le mie emozioni in tanti modi non c'è bisogno di stare sul palco è un privilegio immenso che dovrebbe riempirci diciamo di entusiasmo e quindi io dico ragazzi anche se poi c'è il ragazzo che dice così poi c'è quell'altro che ci ripensa magari lui stesso ci ripensa tu intanto preparati a stare dentro questa gioia ogni volta ogni giorno perché credo che comunque dia qualcosa in cambio dia un premio per vivere bene ah sì sì guarda questo è sicuro scrive Pasquale Scalzi delle sue difficoltà con i ragazzi a proposito della trap e del fatto che per loro la musica è soltanto a servizio delle immagini a me sembra che è evidente che se dobbiamo fare un combattimento tra una musica abituale e associata a un'immagine che quindi a quella forza assoluta e lo stare fermi seduti al banco a concentrarci su un notturno di Chopin ci sono un vincitore un vinto e questo va da sé ma se il nostro corpo partecipa cioè se la trap se quel brano specifico che magari non ci piace proprio magari lo troviamo detestabile o maleducato come scrive il docente ha ragione ma se quello diventasse invece un pretesto se se lo si smontasse se si costruisse una canzone in cerchio su questo estraiamo la parte percussiva e la riproduciamo la suoniamo veloce il doppio oppure la facciamo rallentata cosa succede cioè se accogliamo tutto questo se accogliamo le differenze mi viene in mente da compositore un pezzo pazzesco come sinfonia di luciano berio che prevedeva prevede il brano per gli single singers quindi l'ottetto vocale più famoso al mondo i solfeggi di ettore pozzoli chi di noi ha studiato un po di musica a un certo punto ha sbattuto il naso su un libro pubblicato da ricordi che conteneva i solfeggi di pozzoli grande didatta in italia unico paese al mondo pratichiamo il solfeggio parlato lo sapete unico paese al mondo non esiste un'altra nazione la quale si faccia il solfeggio parlato si fa il solfeggio cantato allora luciano berio genio assoluto in un brano intitolato sinfonia dice che bello abbiamo un'orchestra abbiamo questo tetto vocale citazioni da maler omaggio a martin luther king c'è uno scibile pazzesco testi dal cotto il crudo inseriti dentro cosa fanno gli single singers a un certo punto solfeggiano pozzoli allora questo a me sembra un insegnamento fantastico perché vuol dire prendere il materiale più antimusicale del pianeta terra cioè il solfeggio parlato e trasformarlo in musica allora un solfeggio parlato di pozzoli del quale parlo con affetto o di altri o la trap e sono uguali in questo senso un materiale un pretesto materiale un invito a inerte quanto male può fare non lo so è comunque aria che vibra ma se noi la prendiamo non siamo tutti luciano berio ci mancherebbe però siamo quelli a chilometro zero siamo gli acquirenti di questo banco di frutta e verdura che sono le persone con cui facciamo musica tutti i giorni se la accogliamo la raccogliamo se la trasformiamo a me sembra che questo diventi soltanto vita soltanto vita che ne dice certo certo soltanto vita soltanto vita ma io ci credo tantissimo credo di alla fine di aver detto praticamente questo in tutte le salse in questa in questi in questo ritmo però se vogliamo se c'è qualcos'altro magari anche attraverso non so una riflessione che può arrivare nella chat per me è anche molto stimolante se tu hai ancora qualche minuto qualcosa secondo me potrebbe ancora arrivare una te la lancio io però ripensiamo all'insegnante che entra in classe dicendo sto bene ho tutte le mie energie le voglio riverberare sulla mia classe eccetera mi sono anche preparato ho studiato come tu ci hai spiegato quindi arrivo hai ragione corazzato non ricco di amfetamine ma pronto a confrontarmi con il mondo devo anche avere ti domando gloria in testa una sorta di meccanismo di progetto di appunto che che vale sempre nel momento in cui io devo affrontare una lezione che si tratti di far suonare di far cantare di raccontare la storia della musica di scoprire gli strumenti ci sono degli ingredienti che in modo ricorrente io devo conoscere non so devo sempre sorridere a metà della lezione fare un riferimento personale e ricordarmi di battere le mani tre volte non lo so dico delle sciocchezze solo per stimolarti guarda credo che poi ognuno deve trovare no la sua via e deve trovare il suo modo e quindi chissà magari qualcuno scriverà che ha che utilizza a qualche consiglio che può essere utile a tutti mi sento di dire alcune cose per esempio il potere dell'interruzione io adesso questo l'ho studiato molto perché sono diventata un coach e quindi diciamo faccio un sacco di sessioni anche singole con musicisti pazzeschi che devono fare grandi concorsi grandi concerti così e lavoriamo molto su questo perché eh l'interruzione e quindi che il potere dell'interruzione che poi da dove tutto comincia come tra l'altro diceva Paul Valéry eh è è vero e quindi ricordarsi che è quello che nella musica noi potremmo pensare nel silenzio nella pausa cioè quanto questo è importante ma lasciamo adesso stare la 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 sinonimia proprio come nella musica nel suonare l'interruzione cioè il silenzio ma proprio creare delle interruzioni all'interno di 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 una di un'ora di insegnamento e quindi non tanto avere uno schema ma aver ben chiaro quanto è importante fare un'interruzione perché quando tu fai un'interruzione interrompi uno schema mentale e interrompi uno schema emotivo quindi questo serve sia per il musicista l'atleta il campione no il famoso vado in bagno per il tennista chiedo l'all break cioè sono proprio cose che vengono insegnate dai grandi il grande campione sa che l'interruzione proprio gli serve ma anche il il musicista professionista conosce l'importanza dell'interruzione magari fa qualcosa si tira fuori i fazzoletti cioè non è veramente così sudato non ha veramente così bisogno pensate ai grandi video di benedetti michelangeli però l'interruzione è fondamentale ecco io penso che anche di fronte a un uditorio di ragazzi che stanno così attenti creare dei momenti di interruzione in cui viene fatto uno proprio uno shift del del tono del del tono di voce dello sguardo prima parli di più poi fai fare una cosa più pratica oppure proprio questo cambia lo schema emozionale come se se noi immaginassimo che qualcosa gira in senso orario chiamiamo l'energia chiamiamo l'attenzione chiamiamola non lo so vibrazione a certo punto va in senso anti orario e questo è molto importante questo si si usa nel coaching proprio per aiutare questo adesso lo dico ma quando si è proprio vicino a un momento di grande stress psicofisico è proprio importante con il respiro con la consapevolezza creare queste interruzioni proprio per far girare diversamente questa ruota ma io credo che anche per i ragazzi donare questi momenti di interruzione vi serve proprio per riacchiapparli e anche per far cambiare qualcosa in loro cioè di colpo magari capiscono una cosa che prima non avevano capito cioè mi sembra che questo potrebbe funzionare e cos'altro beh forse tante cose che tutti sanno e sapranno meglio di me cioè l'importanza del linguaggio del corpo l'importanza di cioè qua l'equilibrio di tutto no e Schemberg diceva che che l'unica che la via che se c'è una via che non porta a Roma è la via di mezzo no ma sì io da un lato ci credo sinceramente non ci credo cioè in realtà puoi trovare un equilibrio un po' fra tutto un po' scherzi però un po' sei serio un po' un po' un po' dice una cosa con leggerezza ma allo stesso tempo cioè comunque riflettere sulla leggerezza sempre della dell'uccello non della piuma non qualcosa che svolazza così ma che abbia veramente sempre un suo un suo contenuto un suo peso e che quindi tu lì hai una tua autorità e la vuoi e la vuoi condividere perché è importante ecco non lo so il senso dell'equilibrio e dell'interruzione forse ci sono utili ma direi direi assolutamente di sì stavo guardando anche gli altri messaggi in chat Renato che dice è importante il desiderio di partecipare al gioco quando abbiamo deciso insieme a Simone Lattes di lanciarci in questa impresa di prima la musica e salutare serenamente le basi elettroniche midi dire ragazzi se si fa musica a scuola si fa su registrazioni fatte da esseri umani abbiamo pensato a questo abbiamo pensato suona strano suona anche retorico e un po' me ne vergogno ma al benessere degli insegnanti oltre che al benessere degli studenti ma come posso chiedere io ai miei colleghi che tutti i giorni vanno in classe di fare musica se si devono appaggiare su una base elettronica che fa ribrezzo dal punto di vista fonico ma come posso chiedere di divertirsi se questo è il materiale di partenza e non è certo colpa loro è un problema nazionale è un problema come dire editoriale ma anche estremamente concreto empirico allora se io ho degli strumenti che intanto mi fanno divertire ma lo dico perché mi sono divertito nei tre anni di preparazione del libro e so quanto ogni volta alla fine mi salta un pomeriggio se mi metto a mettere a posto tra le basi del libro perché alla fine me ne riascolto tutte perché sono suonate bene perché sono dei musicisti in gamba perché l'orchestra di pomeriggi musicali ci ha messo il meglio c'è Alessandro Cadario che dirige cioè sono fatte divertendoci un po' di volte l'ho raccontato il gioco è stato sempre quello di dire qual è la soluzione migliore quella che ci piace quella che ci piace da musicisti e credo che non abbiamo sbagliato allora anche in questo senso è evidente che se poi i materiali editoriali e tecnici che gli insegnanti hanno in mano parlano si prestano al gioco si prestano ad essere goduti apprezzati innanzitutto da chi li maneggia allora poi il gioco tutto sommato in discesa quando questo non avviene e allora sono compromessi allora la musica non è democristiana la musica proprio per sua natura la cosa che stai dicendo tu la musica non si presta al compromesso il compromesso teniamo da altre parti la musica si presta alla bellezza la bellezza la trovi anche in gesti minimi allora non è un compromesso il gesto minimo è una scelta di dedicarsi una cosa scrivere un brano però carina una cosa scrivere un brano però chiesa sinfonica non è un compromesso il brano però carina è una scelta o una carina scrivo il brano però carina inutile che faccia finta che l'ocarina è un organo cavallecolo ottocentesco con 400 timbri non lo è inutile che cerchi di forzarlo però con l'ocarina posso fare musica meravigliosa certo ma è ma certo che è una scelta e ti ricordi ne ne parlavamo un po' il potere della scelta ricordarsi quanto importante che noi abbiamo anche questo questa capacità questa questa possibilità tutti i giorni no di poter scegliere mi sembra che sia un percorso quello dell'educazione musicale certamente un po forzato dai voti il registro di classe però 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 mi par di capire che sempre di più un po con l'autonomia delle delle classi delle scuole delle regioni ma anche proprio l'indirizzo forse l'indirizzo l'educazione musicale che forse è un po' diversa da geografia o quello che devi studiare in letteratura italiana magari permette proprio una scelta più ampia ecco io mi ci butterei a capofitto sono sicura che ognuno di voi partecipanti lo fa ci pensa però non dimentichiamocene mai perché così poter scegliere diventa qualcosa di estremamente creativo e nella scelta c'è c'è potere c'è c'è magia c'è c'è forza c'è una direzione e ecco questo è un terreno dove si possono fare delle delle scelte bellissime che sono ancora una volta un fatto di stare nel lavoro nell'azione in un movimento in un in un flusso così come la musica si muove ecco che anche le scelte che la compongono sono in continuo movimento io non mi fermerei mai se dovessi tutti i giorni perché questo è anche il bello e non stare poi alla fine a dover fare qualcosa che ha scelto qualcun altro per te o che la vita stessa ti ha portato guarda dici una cosa preziosissima adesso io sono ospite della casa editrice lattes e quindi forse mi farò sgridare ma il libro che abbiamo pubblicato come tutti i libri di testo che riguardano la musica nel nostro paese è sovrastimato nel senso che nessun docente nei tre anni di scuola media riuscirà ad utilizzare le ottocentocinquanta pagine che abbiamo stampato noi così come le hanno stampate tutti gli editori è un gioco no che permette di scegliere di mettere a disposizione nessuno potrà eseguire i duecentotrenta brani che abbiamo registrato ma non lo fa nemmeno un professionista se lavora tutte le settimane quindi hai ragione nel senso che rispetto a un corso di drammatico di matematica in cui puoi dire faccio un gioco semplificato le addizioni le saltiamo perché non sono simpatiche al professore ok è chiaro che le addizioni non le fai alla scuola media nel corso di musica sì tu puoi decidere che non canti e non suoni musica popolare perché sei molto interessato al rock italiano e fai quello per tre anni ma perché no oppure puoi decidere no che canti e suoni soltanto musica barocca e sul libro ne hai quanta ne vuoi oppure soltanto le colonne sonore perché questa sensibilità perché no eccetera eccetera quindi in realtà la cosa che tu dici è davvero concretamente possibile tu prendi in mano prima la musica e hai la possibilità di dirigere esatto dove dove va dove va la tua anima dove va la tua curiosità e quindi costruirti il tuo corso di musica in un certo senso quindi no no dici delle cose che risuonano sai che sono le 5 10 qui tra un po' mi sgridano e ci mandano via quindi io non voglio approfittare oltre anche della tua giornata di compleanno peraltro è stato un grande piacere è stato un grande piacere è volato quindi ci salutiamo sì davvero noi ci vediamo prestissimo ma noi ci vediamo grazie mille credo di poterlo dire davvero a nome di arriva anche gli auguri guarda da qualcuno in questo momento credo di poterlo dire davvero a nome di tutti i docenti collegati perché è stato un momento prezioso per me sicuramente prezioso non capita spesso di parlare di queste cose forse ha persino senso immaginare che che lo rifaremo un certo punto e magari nel mezzo una riflessione personale da parte di chi c'era oggi o degli studenti ai quali verranno riportate chissà che non possa arricchire il nostro paese di riflessioni proprio in questa direzione guarda che tu sei un artista popolare quindi chissà quanti auguri hai già ricevuto oggi ma guarda che te ne stanno arrivato un bel po' ti ringrazio tanto mi ringrazio tanto ragazzi veramente state nella gioia che vuol dire musica che vuol dire musica in cinese grazie ancora ciao ciao un bacione bacione a gloria campanella allora se non si sono offesi con me però gli amici della casa di trice latte adesso compariranno questa è la prova del 9 ok no non mi hanno cacciato evviva assolutamente no anzi felicissimi di avervi ascoltato perché è stato veramente proprio fonte di gioia ecco che credo sia la parola d'ordine della dell'incontro di oggi c'è proprio riuscita a trasmetterci l'attraverso le sue parole meraviglioso gloria guarda è possibile che se tu desideri tu ti possa scollegare adesso perché credo che approfitteremo di qualche minuto per dare qualche informazione tecnica ma d'accordo non sei costretta a fermarti no allora vi saluto solo perché sono in un luogo che era prenotato solo per quest'oretta quindi vi abbraccio e grazie buona continuazione grazie ancora davvero complimenti per il lavoro che state facendo importantissimo ciao grazie allora intanto che siamo alle note con conclusive non so a nicola se vuoi fare tu due parole sul percorso che stiamo facendo con musica guarda le parole cerco di distribuirla poco a poco in queste conversazioni perché continuo a pensare che siano importanti che siano necessarie e che poi servono a fare anche un po di autocoscienza generale al mondo della musica e quindi nello specifico anche al mondo di chi la musica si trova ad insegnarla e questi ragionamenti fatti con con gloria campaner soprattutto da gloria campaner con questa gentilezza e questa scioltezza questo garbo come se si stesse chiacchierando del più del meno in realtà almeno a me hanno toccato nel profondo insomma mi risuonano queste cose cioè so che mi ritroverò davvero a riflettere c'è chissà che questo non non determini anche un modo un po diverso di entrare in classe diciamo che mi sembra possa far parte del del progetto generale dell'idea di fare musica con gioia con felicità con serenità e soprattutto in modo efficace perché poi la musica ti porta gioia e serenità se la fai bene perché perché se no è chiaro che parti con una situazione di sofferenza dopodiché mi viene in mente che quando siamo stati insieme alla fiera didacta a firenze un paio di settimane fa ormai e venivano a trovarmi un po di docenti gentili che mi avevano riconosciuto dicendo ma quanto ci stiamo divertendo con prima la musica in classe mi stavano parlando di questo naturalmente stiamo parlando di efficacia didattica stiamo parlando di studenti che acquisiscono consapevolezza stiamo parlando di studenti che attraverso la musica fanno usare il cervello in un modo tale per cui poi migliorano in tutte le materie i dati ormai sono molto solidi e sereni in questo senso io non posso ricordarlo è importante ricordarlo studiare bene musica fa scrivere meglio i temi studiare bene musica garantisce risultati migliori in educazione tecnologica in italiano e in matematica ti permette di orientarti meglio quando apri una cartina geografica ci sono tutta una serie di portati positivi ovviamente educazione fisica ci mancherebbe che sono legati al far bene la musica e mi sembra che noi abbiamo fatto una parte importante noi pubblicando questo libro e mantenendo le continuando a lavorare a raccogliere suggerimenti degli insegnanti in modo che questo come lo posso dire sereno ma potente orgoglio di chi fa musica possa continuare a crescere possa arrivare anche in generale a chi si occupa di stendere i programmi o di destinare finanziamenti di organizzare saggi finali o di dialogare con i genitori a rendersi conto di quanto la musica sia fondante importante per la nostra vita per la nostra cultura e banalmente per il benessere di chi si trova a fare la scuola assolutamente sì a proposito di fare musica a scuola immagino che molti degli insegnanti collegati abbiano già magari in adozione o abbiano già per le mani il nostro prima la musica però se ancora non fosse così mi sono permessa di condividere in chat il link eh con tutta la nostra rete commerciale così che se avete piacere di ricevere una copia saggio potete contattare l'agenzia di riferimento del vostro territorio se andate sul link che ah ecco qualcuno ci dice ho ricevuto la copia saggio la scorsa settimana veramente innovativa interessante anzi entusiasmante lo proporò per il prossimo anno scolastico ma lo sto già utilizzando bene siamo siamo contenti speriamo che insomma chi non lo avesse già adottato eh possa introdurlo già a partire da quest'anno e appunto come vi dicevo i nostri rappresentanti sono in giro per le scuole molto spesso li troverete in sala insegnanti e probabilmente li conoscete li conoscete già se invece magari non avete ancora avuto occasione al link che vi ho lasciato trovate tutti i loro recapiti naturalmente anche noi in casa editrice siamo a disposizione quindi potete contattare anche direttamente la casa editrice o sui social o attraverso il sito oppure insomma vi lascio l'indirizzo mail che usiamo per la formazione ma che è validissimo anche per ogni altra richiesta che poi noi dirottiamo a seconda che è formazione chiocciola latteseditori.it e visto che siamo alle battute finali noi abbiamo ancora qualche minuto quindi se ci sono altre domande commenti molto volentieri continuiamo la chiacchierata altrimenti vi ricordo che abbiamo ancora un appuntamento con l'educazione musicale con un altro straordinario ospite che sarà Nicolo Fabi l'appuntamento è per il 24 di aprile sempre sui nostri schermi è sempre alle 16 se andate sul nostro sito trovate già la scheda dell'evento per potervi iscrivervi anzi per comodità ve la condivido eh ve la condivido qui in chat così magari se volete potete già già iscrivervi sempre che non l'abbiate già fatto perché per questo webinar abbiamo ricevuto tantissime adesioni vi ricordo comunque che sul nostro sito ehm trovate anche tutte le registrazioni dei webinar precedenti lo dicevo all'inizio ma ci tengo a ricordarlo per chi magari si è collegato a webinar iniziato visto che abbiamo avuto veramente una carrellata di ospiti che ci hanno emozionato prima ancora che averci trasmesso dei contenuti e quindi vi suggerisco di di andare a dare una sbirciatina sia ai nostri appuntamenti ma soprattutto alle nostre registrazioni qui appunto il link della dell'incontro che vi dicevo il 24 di aprile e a questo punto se non ci sono domande o altri commenti ringrazio tutte e tutti voi per il tempo e l'attenzione che ci avete dedicato ringrazio a Gloria Campanera anche se sei già scollegata e anche Nicola Campogrande che ci ha fatto scoprire questo questo personaggio e insomma attraverso il loro dialogo e noi a nostra volta abbiamo davvero incontrato un nuovo modo di vivere la musica bene grazie allora buon poveriggio a tutti e alla prossima insieme a Nicolo Fabi alla prossima vi aspettiamo ci vediamo online grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti